Endless Love Anticipazioni. Chi ha davvero ucciso Karen? Nian, ancora scossa, si confronta con Emir. È stato Tariq? È solo un altro dei tuoi trucchi? chiede con voce tremante. Emir, enigmatico, risponde con un sorriso beffardo. Sto proteggendo mio fratello Ozan e ora anche Tariq, il fratello di Kemal. Io tengo a te, Nian. Kemal non farebbe lo stesso per i suoi fratelli. Le parole di Emir sono come un colpo di scena che lascia Nian senza fiato. Ma la rivelazione è solo l'inizio di una serie di eventi che cambieranno tutto. Emir, visibilmente furioso, accusa Kemal di non preoccuparsi dei suoi fratelli e giura che Kemal pagherà per ogni momento trascorso con Nian. La tensione tra loro è palpabile e la situazione è destinata a peggiorare. La mattina seguente, Zeynep entra nella camera di Emir e lo deride per la sua solitudine. Emir, provocatorio, le confessa che pensa sempre a lei e che la desidera, ma lei ha scelto di sposare Ozan. Zeynep si avvicina pericolosamente, quasi sul punto di baciarlo, ma si allontana, dichiarando con disprezzo che lo odia e promettendo che un giorno lui supplicherà di averla. Nel frattempo, Honder si presenta alla porta di Kemal, ringraziandolo per aver riportato a casa sua figlia sana e salva. Poi, parlando con Leila, la informa di una riunione sull'aumento di capitale della società e del prossimo cambiamento nel consiglio di amministrazione, invitandola a partecipare all'assemblea. Quando Kemal chiede cosa volesse Honder, Leila risponde che vuole solo ripulirsi la coscienza. È un gioco di potere e intrighi, e Asu confessa a Feime di essere innamorata di Kemal, e che suo zio ha parlato con lui delle sue ultime volontà, tra cui guidare la compagnia e sposare sua nipote. Feime, inizialmente felice, rimane gelata quando Asu le dice che Kemal ha rifiutato perché è innamorato di Nihan. Feime rassicura Asu, dicendo che tutto ciò che vuole è vedere suo figlio Kemal sposato con lei, ed è sicura che suo figlio rispetterà il volere di sua madre. In un momento di rivelazioni, Nihan avverte Kemal del piano che Emir sta orchestrando contro di lui. Gli racconta che ha scoperto da suo marito che è stato Tarik a uccidere Karen, e che questa sarà la sua carta vincente per incastrarlo. Kemal le dice di esserne già al corrente perché Emir l'ha chiamato per informarlo, ma è certo che scoprirà il suo gioco e non gli permetterà di ricattarlo. Fermatevi un attimo. Chi pensate stia dicendo la verità? Poco dopo, Kemal chiama Zehir. Vildan e Galip si recano insieme per firmare i documenti di trasferimento di proprietà della casa di Leila, acquistata all'asta. Vildan, estremamente riconoscente verso Galip, gongola per essersi vendicata di sua sorella. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando si accorge che è Galip a firmare l'atto di vendita al posto suo. Immediatamente, realizza di aver commesso un errore, ma Galip le ricorda che l'accordo prevedeva solo che lei si vendicasse della sorella, mentre lui aveva acquistato la casa per la famiglia, destinandola a Emir e Nihan. Vildan è scioccata e comprende di essere stata ingannata, perdendo la casa di suo padre per la sua futile vendetta. Incapace di nascondere il suo turbamento, Vildan si reca con Galip alla sede della compagnia dove si tiene l'assemblea tra i soci, per l'aumento di capitale. Qui subisce un secondo duro colpo vedendo sua sorella entrare in sala. Leila riprende il pieno controllo delle sue responsabilità come socia dell'azienda, mandando Vildan su tutte le furie. E ora, il colpo di scena finale. Asu, determinata a conquistare il cuore di Kemal, rivela il suo piano a Aki, confidandogli di avere una strategia e di poter contare sull'appoggio di Feim, convinta che questo le darà un vantaggio decisivo. Nel frattempo, Kemal affronta Tufan, sostenendo con fermezza che suo fratello Tariq non sia coinvolto nell'omicidio di Karen. L'alibi fornito da Banu sembra supportare questa convinzione, ma Kemal ignora ciò che Tufan gli dimostra. Poco dopo, Banu mente a Nihan, spingendola a cercare la verità. Decisa a fare chiarezza, Nihan affronta direttamente Tariq. Durante il loro confronto, Tariq, visibilmente stressato e frustrato, proclama con veemenza la sua innocenza, negando ogni coinvolgimento nell'omicidio di Karen. Sopraffatto dalla pressione, Tariq si confida con Emir, esprimendo il suo stato di angoscia e panico. Emir, con un sorriso calcolato, lo rassicura facendogli credere di essere il suo unico amico e promette di proteggerlo. Nel frattempo, Asu si trova di fronte a un dilemma personale. Cerca l'aiuto di Kemal per convincere Haki, gravemente malato, a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, Haki è irremovibile e rifiuta categoricamente l'idea di andare in ospedale, nonostante il suo stato di salute. Haki insiste affinché Kemal accolga le sue ultime volontà, sposare sua nipote Asu e guidare la compagnia insieme a lei. Ma proprio quando tutto sembra stabilizzarsi, emerge un nuovo mistero. Tariq, tormentato dal peso delle accuse, decide di incontrare di nuovo Nian. Il suo volto è segnato dalla fatica e dalla disperazione. Non ho ucciso Karen, ripete incessantemente, ma le prove sembrano essere contro di lui. Nian non sa più a chi credere. La situazione si complica quando Emir fa una mossa inaspettata, mettendo ancora più pressione su Tariq. E mentre la tensione cresce, Asu deve affrontare un'altra sfida. Convinta che Haki abbia bisogno di cure, si rivolge nuovamente a Kemal. Ma Haki è determinato. Vuole che Kemal rispetti le sue ultime volontà, incluso il matrimonio con Asu. Kemal si trova così davanti a un bivio, combattuto tra il rispetto per Haki e il suo amore per Nian. E proprio quando pensate di aver capito tutto, ecco il colpo di scena. Emir svela un segreto sconvolgente che potrebbe cambiare tutto. La verità dietro l'omicidio di Karen è molto più complessa di quanto sembri. Mentre le trame si intrecciano e i personaggi si scontrano, il destino di tutti sembra sempre più incerto. Cosa farà Kemal? Rispetterà le ultime volontà di Haki o seguirà il suo endless love per Nian? E quale sarà la prossima mossa di Emir? L'intrigo è appena iniziato e le sorprese non sono finite. Chi cederà per primo sotto la pressione? Rimanete con noi, perché l'epilogo di questo endless love promette di essere indimenticabile. Grazie. Grazie.